Doveva sorgere in via salvo d'acquisto, il nuovo parcheggio multipiano previsto dal comune di Lucera, nell'area del campo in cemento alle spalle della scuola elementare Ex-Gil, dove per anni si è svolto il torneo delle chiavi e altre manifestazioni sportive. A detta dell'amministrazione comunale, al fine di risolvere l'annoso problema del traffico e quindi delle aree di sosta che coinvolge la vita e le abitudini dei cittadini. A circa due mesi di distanza da quando abbiamo appreso della realizzazione del nuovo parcheggio multipiano in via salvo d'acquisto, veniamo a sapere che è stata individuata la realizzazione di un'altra struttura a parcheggio multipiano, ubicata nella corte di Palazzo Mozza Grugno, lungo la via Vittorio Veneto. Seguendo gli indirizzi amministrativi conferiti informalmente dal sindaco e dall'assessore Foglieri, il responsabile del quinto settore lavori pubblici, dottor Giancarlo Flaminio, ha elaborato uno studio di prefattibilità nel quale ha individuato come area dell'intervento il suolo ubicato nella corte interna di Palazzo Mozza Grugno, lungo via Vittorio Veneto, secondo le previsioni del vigente piano regolatore generale e del piano urbano del traffico. L'area in questione interessa una superficie di circa 1200 metri quadri, con cinque piani, di cui tre completamente interrati, per circa 160 posti auto, 20 posti scoperti sull'astrico solare, oltre a un locale di circa 200 metri quadri a quota della Corte Comunale, ad uso commerciale. Per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziero degli investimenti del concessionario e per evitare qualsiasi onere a carico del bilancio comunale, è prevista l'alienazione di posti auto all'ultimo piano interrato e del locale commerciale. A parere del dottor Giancarlo Flaminio, secondo quanto scritto nel documento da lui stesso elaborato, le finalità di tale parcheggio consisterebbero nel valorizzare il centro storico, dotandolo di una struttura di servizio non solo per il Palazzo Comunale e il Teatro Garibaldi, ma per tutto il comprensorio racchiuso nella cinta muraria antica, e fornendo alla città di Lucera un insediamento produttivo di natura a servizio dell'abitato, tale da stimolare le attività di servizi sul territorio comunale e quindi la creazione di nuovi posti di lavoro. Leggendo la delibera di giunta, con la quale si dà mandato al dottor Flaminio di procedere celermente nella gestione delle procedure e nella redazione della documentazione tecnica e dello studio di fattibilità, pare che la realizzazione di un parcheggio multipiano sia considerata, per la città di Lucera, un'urgenza. E intanto su Facebook i lucerini insorgono e un rappresentante del gruppo Riscrivere la Storia invita chi può a partecipare ad una conversazione dal titolo sarcastico Ciao ciao, mura medievali.